Ciao, famiglia Milan. Siamo di nuovo qui con un annuncio impressionante sulla prestazione del Milan, che ha fatto parlare di sé. Prima di immergerci nei dettagli di questa analisi tattica, voglio ricordarvi di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdervi nulla. Discutiamo quindi insieme delle recenti osservazioni di Fabio Capello e di ciò che questo significa per le prossime sfide del nostro club. Fabio Capello, ex allenatore del Milan e apprezzato commentatore, ha espresso soddisfazione per la prestazione del Milan nella vittoria contro il Venezia, dove i rossoneri hanno segnato quattro volte nei primi 29 minuti. Secondo Capello, questa prestazione è stata fondamentale per risollevare il morale della squadra dopo un inizio di stagione difficile, con solo due punti conquistati in tre partite. Questa vittoria non solo ha rafforzato la fiducia della squadra, ma ha anche offerto segnali incoraggianti di voglia, determinazione e vivacità. Tuttavia, nonostante i molti aspetti positivi, come le prestazioni di Fofana a centrocampo, Abram in avanti e Leao, che ha mostrato la sua solita devastazione sulle ali, Capello ha evidenziato una grande preoccupazione, la fragilità difensiva. Nonostante la netta superiorità sul Venezia, il Milan ha concesso alcune occasioni che avrebbero potuto essere pericolose contro avversari di livello superiore. E a proposito di avversari di livello superiore, il Milan affronterà due grandi sfide consecutive, il Liverpool in Champions League e l'Inter nel derby della Madonnina. Contro il Liverpool, in particolare, Capello ha avvertito che, nonostante i problemi difensivi della squadra inglese, essa è in grado di punire qualsiasi spazio concesso. Sarà un vero e proprio test per le tattiche difensive di Paolo Fonseca e per la capacità del Milan di mantenere, coerenza e disciplina. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Come pensate che il Milan debba prepararsi per le prossime sfide contro Liverpool e Inter? Siete d'accordo con l'analisi di Capello sulla necessità di migliorare la difesa? Lasciate un commento qui sotto e non dimenticate di mettere mi piace al video e di abbonarvi per ricevere ulteriori aggiornamenti direttamente dal cuore del Milan. Alla prossima! Famiglia Milan!